Il governo conferma il blocco dei salari per i dipendenti pubblici e le forze dell'ordine minacciano lo sciopero generale entro fine settembre. Parla un poliziotto sindacalista. La situazione è insostenibile, dice il nostro microfono. Si sblocca la questione Aller e la gestione dei 30.000 alloggi di edilizia popolare a carico del comune di Milano che dal prossimo primo dicembre li ha affidati alla metropolitana milanese. Insoddisfatti e preoccupati i sindacati della casa. Stato di allerta per il botteillon previsto per stasera a Milano in piazza Leonardo da Vinci a Cittastudi. Si ipotizza che 20.000 giovani si ritrovino ad ascoltare musica, bere e ballare. La zona sarà presidiata perché la manifestazione non è autorizzata. Il 28 settembre elezioni di secondo livello riservate ai sindaci e ai consiglieri comunali per eleggere l'assemblea di Milano a Città Metropolitana alla cui testa dal prossimo primo gennaio ci sarà Giuliano Pisapia. Pochi sanno cos'è e cosa farà la Città Metropolitana. Il TGN cerca di spiegarlo tra liste elettorali e compiti ancora da definire. Buonasera, benvenuti al TGN. Questa edizione la apriamo con la protesta dei sindacati di polizia e degli altri quattro corpi dello Stato che annunciano lo sciopero generale entro la fine di settembre. Una protesta contro il blocco degli stipendi confermato anche per quest'anno dal governo Renzi. Ricordiamo che sono cinque anni ormai che gli stipendi degli statali sono congelati. Siamo andati ad ascoltare la voce di un sindacalista milanese. Sciopero generale entro la fine di settembre per le forze dell'ordine. I sindacati dei corpi dello Stato rispondono così al governo Renzi che ha preannunciato un nuovo blocco dei contratti e delle retribuzioni. Per il sesto anno consecutivo niente aumenti in busta paga o scatti di carriera per poliziotti, carabinieri, esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza e vigili del fuoco. È la prima volta nella storia d'Italia che i sindacati annunciano uno sciopero generale per tutto il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Noi stiamo chiedendo che dopo cinque anni di blocco ci ridiano almeno i meccanismi, cioè le promozioni, che fino adesso ci hanno bloccato. Una presa di posizione dura che toccherà anche la Lombardia e Milano. Già dalle prossime settimane dovrebbero arrivare i primi presidi informativi per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi portati dal taglio agli stipendi. L'esecutivo replica che attraverso il bonus IRPEF da 80 euro sono già stati tutelati i lavoratori statali più deboli con un reddito inferiore ai 26.000 euro l'ordine annui. I sindacati di polizia denunciano che Renzi, nonostante gli annunci, non ha ancora tagliato privilegi e scorte. Lo sciopero generale potrebbe mandare in tilt la sicurezza nelle strade oltre ai molti centri di accoglienza gestiti dalle forze dell'ordine. Come funziona tecnicamente uno sciopero delle forze dell'ordine? Cosa potrebbe succedere quel giorno? Questo lo vedremo, ma ci sono una serie di meccanismi interessanti che potremmo attuare. Uno su tutti, ci vogliono pubblici dipendenti? Va bene, faremo i pubblici dipendenti. Però, tanto per essere molto chiari, oggi un collega a Lampedusa lavora 14 o 15 ore per far fronte a quell'emergenza. vorrà dire che dopo sei ore, ma a casa. Alla scadenza della convenzione con Aler, veniamo alle cose strettamente milanesi, il prossimo 30 novembre sarà MM, metropolitana milanesi, a subentrare nella gestione dei 30.000 alloggi popolari che sono in dote al Comune di Milano. Una scelta certificata oggi a Palazzo Marino, nonostante i sindacati si dicano contrari a questo tipo di svolta e nonostante il Presidente della Regione Maroni pensi ad un nuovo accordo con la città metropolitana. Guardiamo il servizio. La riunione di stamane con al tavolo i segretari cittadini dei partiti che compongono la maggioranza di centro-sinistra a Palazzo Marino ha sancito il passaggio della gestione del patrimonio di edilizia popolare del Comune da Aler a metropolitana milanese. Si sapeva, è stato di fatto un certificare la nuova situazione. Tutto partirà il primo dicembre alla scadenza della convenzione con l'Agenzia regionale, convenzione non rinnovata dal Presidente Maroni. Da Palazzo Marino arriva una bocciatura di Aler su tutta la linea, mentre la Regione apre a un nuovo accordo strutturale che però venga firmato dalla nuova città metropolitana. L'idea è che MM si occupi di tutto, anche della manutenzione e dell'amministrazione degli oltre 30.000 alloggi comunali attraverso l'apertura di un nuovo settore ad hoc. Il segretario milanese del PD, Pietro Bussolati, si è detto fiducioso. Sono convinto che dopo il rapporto travagliato con la Regione, ha detto, questa nuova fase possa garantire una gestione più oculata e un contrasto più efficiente all'abusivismo. Da rifondazione arriva un plauso al coraggio dell'amministrazione Pisapia, da SEL un'altra carezza tra mille virgolette ad Aler e a Palazzo Lombardia. Ma i sindacati non sono convinti. Tutte le sigle CGL, CISL, WILL e quelle che si occupano degli inquilini, SUNIA, SICET e altre, hanno redatto un documento unitario che boccia la svolta. Giudichiamo negativamente la scelta perché pregiudica una gestione unitaria delle case popolari milanesi, si legge, prima di un richiamo ai disastri della parentesi affidata ai privati dal 2003 al 2009 e del timore, per nulla celato, di un ripetersi di strategie di privatizzazione in caso di inefficienza di MM, una società che non è, secondo loro, strutturata in maniera idonea per assolvere al nuovo compito. Di fatto però la linea è ormai tracciata, salvo che la proposta di Maroni, ancora da definire nel dettaglio, non cambi le carte in tavola dal 2015 e non prevalga la sua visione allargata, diciamo metropolitana, della questione. Sulla vicenda è intervenuto poco fa il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, proprio di fronte alla dura presa a disposizione del sindacato, ha ribadito che si tratta di una scelta importante rispetto al passato. Attualmente, dice il sindaco, la situazione non è degna di un paese civile. Intendiamo dare un segnale concreto di miglioramento, ha sottolineato ancora Pisapia, di fronte a problemi di degrado, illegalità e occupazioni abusive. Per quanto riguarda invece la presa di posizione di Roberto Maroni, Pisapia sottolinea come nelle scorse settimane, di fronte all'improvviso, all'improvvisa rottura con Aler, Comune e Regione abbiano cercato di stabilire un accordo, di fare una società comune, ma non c'è stato verso di trovarlo questo accordo, perciò, dice Pisapia, abbiamo deciso di assumerci fino in fondo le nostre responsabilità. Il sindaco sembra convinto di quanto è scelto in direzione di MM. Passiamo adesso, restiamo a Milano, ma passiamo a un tema che potrebbe svilupparsi nelle prossime ore, perché la polizia locale è mobilitata contro il Botteillon, una sorta di rev party, previsto per questa sera alle 22.30 in piazza Leonardo da Vinci, in zona Città Studi. Pensate che 20.000 giovani si sono dati appuntamento per ascoltare musica, ovviamente a volume alto, per bere, ovviamente alcolici, per ballare. Tutto questo spaventa, è davvero il caso di dirlo, il quartiere, che teme che ci siano, che si possa andare incontro a una notte e non solo di disagi. Vediamo che cosa ha preparato Massimo Scarinzi. Alta tensione a Milano, in piazza Leonardo da Vinci. Tra poche ore alle 22.30 è previsto l'appuntamento per il Botteillon, evento in cui migliaia di ragazzi si riuniscono a ritmo di musica, portando da casa bibite e bevande alcoliche. L'happening, pubblicizzato sui social network, ha messo in allarme i residenti del quartiere. 20.000 invitati è il titolo che è tutto un programma. Dopo l'ultima festa dello scorso 11 luglio, gli abitanti della zona hanno raccolto oltre 500 firme per chiedere un intervento a Palazzo Marino e alle forze dell'ordine. Un dispiegamento di musica, venditori abusivi di bottiglie, quindi con degrado. E questo non è possibile in una zona urbanizzata in città, senza nessuna autorizzazione mai chiesta dall'amministrazione comunale, le autorità competenti. I disagi per i residenti non sono solamente di tipo acustico. Nelle ore successive la piazza si presenta come uno scenario di degrado, tra sporcizia, bottiglie di vetro abbandonate e ragazzi completamente ubriachi. Stasera sul posto ci sarà un dispiegamento massiccio da parte delle forze dell'ordine. L'assessore Granelli spiega che si tratta di una sorta di re-party con finalità commerciali. Il popolo arancione, quello che ha portato Pisapia a Palazzo Marino, però non ci sta. Il bottiglion per loro è un semplice momento di incontro tra giovani e studenti. In molti non hanno gradito il ricorso agli agenti preannunciato da Granelli. Dopo lo sgombero del centro sociale ZAM, ritorna altissima la tensione tra la giunta e i giovani arancioni milanesi. Sui social network c'è un po' di polemica rispetto all'aggiunta arancione, rispetto all'utilizzo di forze dell'ordine per eventi come questo. Qui il problema è chiaro, qui non si tratta di dire ci troviamo con un po' di ragazzi, facciamo un po' di musica o attiviamo spazi su cui noi siamo aperti, anzi stiamo lavorando per favorire l'utilizzo degli spazi, l'utilizzo delle attività giovanili, della musica, eccetera. Qui si tratta di iniziative senza nessuna autorizzazione. Restiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Gallarate, in provincia di Varese, ha sequestrato 26,5 kg di hashish, vediamo qui alcune immagini tratte dal sito repubblica.it, suddivisi in panetti, panetti nascosti nell'auto di tre cittadini marocchini, arrestati con l'accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. I tre uomini sono stati fermati al loro rientro da un viaggio in auto proprio in Marocco. I panetti di hashish erano nascosti all'interno del serbatoio della benzina. Passiamo a Palazzo Lombardia, oggi giornata di giunta, venerdì, tradizionale, c'è stata oggi la sanità al centro del dibattito, Maroni e Mantovani, che della sanità è l'assessore, e hanno deliberato la promozione di cause legali contro le aziende farmaceutiche, Novartis e La Roche, già condannate dall'antitrust per aver costituito un cartello in violazione delle norme sulla concorrenza. Ricorderete certamente la storia di quei farmaci anti-cecità. sempre dalla giunta nasce, viene la notizia, che è molto vicino l'accordo sulla fecondazione eterologa anche nella nostra regione. Resta il nodo legato ai costi. Ascoltiamo il servizio. La storia è quella, quella delle multinazionali del farmaco, che non sempre, ma spesso, troppo spesso, drogano il mercato, si muovono con logiche da monopolio, in regime di concorrenza sleale. Stavolta però l'antitrust ha fatto il suo. Per Novartis e La Roche è arrivato a una multa di 180 milioni di euro per aver scoraggiato illegalmente l'utilizzo di un farmaco per la cura della maculopatia senile, l'Avastin, che ha un costo di circa 80 euro, per imporre il loro, che di nome fa Lucentis, prezzo di 900 euro, con picchi di 1.700. Regione Lombardia ha deliberato oggi la promozione di cause legali per ottenere il rimborso di quanto speso per il farmaco e Maroni ha fatto i conti. Abbiamo stimato che il danno che è stato determinato al servizio sanitario regionale è di oltre 60 milioni di euro. Quindi oggi abbiamo dato incarico all'Avvocatura regionale di procedere legalmente nei confronti delle due società. È partito da qui l'ampio ragionamento sui temi legati alla sanità lombarda, un settore che ha visto sempre oggi lo stanziamento di ulteriori 30 milioni per l'acquisto di nuovi macchinari per le strutture ospedaliere e la formazione di una commissione che valuterà come investirli, sostituendosi all'arbitrio affidato finora ai singoli direttori dei poli sanitari. E poi c'è la questione della fecondazione eterologa. Mantovani ha visto gli assessori delle altre regioni, si è trovata la quadra, limando le varie istanze e salvaguardando, dice lui, i temi etici più scottanti a partire dall'eterosessualità della coppia richiedente. Resta il fatto che una legge ancora non c'è. La prestazione non è inserita nei LEA ai livelli essenziali di assistenza, quindi chi paga? La coppia? Esisterà un ticket? Maroni, prima di muoversi, vuole chiarezza sul punto, ma manca poco, anche qui da noi. Vogliamo definire una posizione comune tra le regioni, cosa che ancora non c'è, prima di farla partire in Lombardia. Quindi la prossima settimana, venerdì in giunta, ci sarà la delibera, dopo aver definito questi non trascurabili dettagli. E' arrivata nel frattempo la replica di una delle due aziende farmaceutiche, Novartis, che respinge in maniera decisa le accuse di pratiche anticoncorrenziali e per questo ha impugnato il provendimento all'autorità antitrust dinanzi al TAR del Lazio. Il procedimento, dice sempre la nota di Novartis, è ancora in corso e la sentenza è attesa entro la fine dell'anno. Pertanto, conclude, risulta infondata qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della regione. Sono parole, queste sono chiacchiere, vedremo che cosa diranno i tribunali. Se c'è stato dolo, il rischio che queste aziende farmaceutiche debbano pagare sembra onestamente molto concreto. Prima abbiamo sentito parlare della città metropolitana, che dovrebbe, potrebbe in qualche modo, avrebbe potuto, diciamo meglio, secondo Roberto Maroni, occuparsi delle case popolari in gestione al Comune di Milano. Ma che cos'è nel dettaglio questa città metropolitana? Quando nasce questa città metropolitana? Ebbene, alla fine di questo mese, il 28 settembre, ci sarà un primo passo molto importante perché ci saranno le elezioni per il Consiglio di questa città. 24 sono i seggi a disposizione, il centro-sinistra, sono 134 i comuni che fanno parte della città metropolitana, ovviamente Milano, e città dell'Interland, ma non solo, dell'attuale Interland milanese. Centro-sinistra è in vantaggio nelle proiezioni che si fanno, visto che a votare saranno i sindaci e i consiglieri comunali in carica, attualmente in carica, non è un'elezione, lo spieghiamo bene nel servizio, ma diciamo molto chiaramente che riguarda noi cittadini. Si tratta di un'elezione di secondo livello. Andiamo ad ascoltare il servizio. Entro lunedì dovranno essere depositate le liste dei candidati con le 103 firme di amministratori a corredo. Il 28 settembre si vota, o meglio, si votano. Perché quelle per eleggere il Consiglio della città metropolitana saranno elezioni di secondo livello, cioè saranno circa 2000-2079 all'ultima conta sindaci e consiglieri dei 134 comuni della provincia di Milano a scegliere i 24 rappresentanti della nuova Assemblea. Funziona così, con il centro-sinistra che si presenta unito e farà man bassa di poltrone, visto il colore delle amministrazioni comunali interessate, e il centro-destra che vede solo la Lega sfilarsi e gli altri, il nuovo centro-destra e i fratelli d'Italia compresi, tornare a fare squadra. Nessuna retribuzione aggiuntiva per chi assumerà anche questa carica, Pisapia, almeno per questo primo mandato, nominato d'ufficio da gennaio 2015 sindaco metropolitano. Il metodo di assegnazione dei seggi è quello proporzionale, quello di OND, e da qui deriva la matematica certezza che il centro-sinistra avrà una solida maggioranza nell'Assemblea. Alcune regole. La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza automatica dal Consiglio metropolitano, a meno che ovviamente non si venga rieletti. I 134 comuni sono suddivisi in nove fasce demografiche per ponderare i voti validi per ogni lista, con schede colorate a seconda del numero di abitanti e quindi della fascia d'appartenenza, per distinguere immediatamente i voti. Il PD milanese, insieme agli alleati ritrovati, promuoverà delle iniziative rivolte alla cittadinanza, anche se in questo caso quest'ultima e l'elettorato non coincidono, come abbiamo detto. Serviranno per coinvolgere i cittadini e per spiegare loro l'importanza del nuovo soggetto, dicono i democratici. Mentre Maroni va più sul pratico e sottolinea che, nonostante il quadro qui a Milano sia più chiaro rispetto a quello delle nuove province lombarde, manca ancora qualche dettaglio da chiarire sulle competenze da assegnare alla città metropolitana. Insomma, parte un iter che solo con l'inizio del 2015 si completerà con quella gestione integrata di un'area che già oggi, anzi anche ieri e l'altro ieri, viveva una serie di realtà comuni che si spera possano trovare così risposte univoche. Bene, proseguiamo. Momenti di tensione. Ieri sera al Festival dell'Unità, in corso di svolgimento al Carroponte di Sesto San Giovanni, era infatti in programma un dibattito sulla mobilità, come vedete nelle immagini tratte da Repubblica TV, al quale era stata invitata Benedetta Rese Lucini, presidente di Uber Italia, ma nessun rappresentante dei tassisti milanesi, da tempo in aspra lotta e polemica proprio con Uber. Per questa ragione, prima che Lucini parlasse una seconda volta, gli animi si sono scaldati, si vede chiaramente, ed è scattata la protesta dei numerosi tassisti presenti, sì contro la manager, ma soprattutto contro gli organizzatori del Partito Democratico. Bene, restiamo con le questioni che riguardano il lavoro e andiamo a, restiamo anche a Palazzo Marino evidentemente, dove sono stati varati un'altra volta i corsi di formazione per chi il lavoro purtroppo lo ha perso. Lo scorso anno sono state 100, più di 100 le persone assunte dopo aver seguito uno dei corsi offerti dal Comune di Milano, 350 sono le aziende che hanno aderito alla Convenzione. Guardiamo di cosa si tratta. Milano sicuramente non è esente dai colpi della crisi, anche se continua a mostrare numeri e performance migliori rispetto alla media nazionale. Abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che pur essendo alto, intorno al 28%, è sicuramente molto inferiore rispetto alla media nazionale e questo è un aspetto incoraggiante. Nell'Italia che fa registrare i record di disoccupati degli ultimi 60 anni Milano prova a resistere. I dati sul numero di senza lavoro nel capoluogo Lombardo sono 4 punti percentuali sotto la media nazionale. Palazzo Marino prova a fare la sua parte nella lotta alla disoccupazione rilanciando i corsi di formazione. Da questa settimana sono aperte le iscrizioni, in totale sono 600 i corsi aperti anche agli stranieri con un'offerta formativa che spazia dalla ristorazione alla sartoria, dall'informatica alle lingue straniere. Sono 350 le imprese milanesi che hanno aderito alla Convenzione offrendo opportunità di inserimento lavorativo, un modo per cercare di far incrociare domande e offerta. I corsi si dividono in due categorie, da un lato chi ha perso il lavoro, dall'altro ci sono anche persone già inserite nel mercato del lavoro che desiderano arricchire il proprio bagaglio di competenze attraverso una formazione continua. Sono circa 2000 le persone che hanno partecipato ai corsi lo scorso anno, 269 i tirocini avviati che hanno dato luogo a 110 assunzioni. Da questa settimana sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale gestiti dal Comune di Milano che hanno mostrato numeri positivi sia in termini di adesione sia in termini di occupabilità dei nostri formati. Bene, prima di chiudere ancora il tempo per una notizia, dopo settimane di polemiche si è concluso il braccio di ferro tra il Comune di Cremona e gli organizzatori di Expo 2015. Il sindaco della città del Torrazzo Gianluca Galimberti ha infatti deciso di prestare per quattro mesi all'esposizione universale l'Ortolano dell'Arcimboldo che vedete in questa immagine, l'opera a cui si sono chiaramente ispirati i creativi della Disney nel disegnare Fudi, la mascotte di Expo. Eccola qua che la vedete anche lei. Era questa, quindi per quattro mesi l'Ortolano dell'Arcimboldo sarà a Milano. Era questa l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui per questa sera. Adesso un po' di pubblicità e il meteo, un po' di pubblicità e poi arriva Michele Marchetti con il calcio, le notizie della giornata, soprattutto i commenti post nazionale che ieri sera ha debuttato, come sappiamo, molto bene. Per il momento grazie e alla prossima edizione del TGN. Grazie a tutti.